Convocare in Commissione Trasporti il Presidente Eav, Umberto De Gregorio, per chiarire le cause dei disservizi che stanno pesantemente penalizzando gli utenti della tratta Napoli Torre Annunziata Poggio Marino e per conoscere i tempi di ripristino integrale della linea ferroviaria. A chiedere il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania, Anna Rita Patriarca, in una lettera indirizzata al Presidente della Quarta Commissione Consigliare Luca Cascone. Una situazione che sta causando disagi per migliaia di utenti. L'abolizione improvvisa dei convogli tra Torre Annunziata e Poggio Marino rappresenta un danno per i pendolari di ben sette fermate, Bosco Tre Case, Bosco Reale, Pompei Santuario, Scafati, San Pietro, Cangiani e Poggio Marino, ai quali è stato offerto un servizio di treni navetta sostitutivo che incredibilmente sabato scorso è stato a sua volta soppresso per mancanza di personale e rimpiazzato da un servizio bus. Bisogna assolutamente evitare in un momento di grave crisi sanitaria che i trasporti pubblici siano esposti al rischio di sovraffollamento, ha continuato l'esponente azzurro, ed è necessario che il management di EAP adotti tutte le misure necessarie per consentire ai viaggiatori di raggiungere le destinazioni in maniera confortevole e sicura e soprattutto senza ritardi. L'azienda ha il dovere di informare gli utenti sui tempi necessari per il recupero della funzionalità della tratta ed illustrare inoltre la strategia del management per risolvere le inefficienze che caratterizzano da troppo tempo purtroppo l'intero esercizio.